E' consuetudine di chiudere questo festival in un luogo così magico, che è di buon auspicio per il futuro. In fondo al mare, in fondo al mare profumo. Siamo. Allora, intanto una notizia straordinaria. Il festival non si chiude qua, domani iniziamo da campo. Facciamo altri dieci giorni fino al 20 di agosto. A bene.